Libro del profeta Daniele, capitolo 9 O Signore, Dio grande e tremendo, che conservi il tuo patto e la tua misericordia con quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti Noi abbiamo peccato e abbiamo agito perversamente Siamo stati malvaggi e ci siamo ribellati allontanandoci dai tuoi comandamenti e dai tuoi degreti Non abbiamo ascoltato i profeti, tuoi serbi che hanno parlato nel tuo nome ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese O Signore, a Te appartiene la giustizia ma a noi la confusione della faccia come avviene oggi stesso agli uomini di Giuda agli abitanti di Gerusalemme e a tutto Israele a quelli vicini e a quelli lontani in tutti i paesi in cui li hai scacciati a motivo delle infedeltà che hanno messo contro di Te O Signore, a noi la confusione della faccia ai nostri re, ai nostri principi e ai nostri padri perché abbiamo peccato contro di Te Al Signore nostro Dio appartengono la misericordia e il perdono perché ci siamo ribellati contro di Lui e non abbiamo ascoltato la voce dell'Eterno, il nostro Dio per camminare nelle sue leggi che ci aveva posto davanti per mezzo dei suoi servi, i profeti Sì, tutto Israele ha trasgredito la tua legge si è sviato per non obbedire alla tua voce perciò si è riversata su di noi la maledizione e il giuramento che è scritto nella legge di Mosè servo di Dio perché abbiamo peccato contro di Lui Così Egli ha mandato a compimento le sue parole che aveva pronunciato contro di noi e contro i nostri giudici che ci hanno governato facendo venire su di noi una grande calamità perché sotto tutto il cielo non è mai stato fatto nulla di simile a ciò che è stato fatto a Gerusalemme Come è scritto nella legge di Mosè tutta questa calamità ci è venuta addosso tuttavia non abbiamo implorato l'Eterno, il nostro Dio per convertirci dalle nostre iniquità e prestare attenzione alla tua verità Perciò l'Eterno ha vegliato su questa calamità e l'ha fatta venire su di noi perché l'Eterno, il nostro Dio, è giusto in tutte le opere che fa mentre noi non abbiamo udito alla sua voce E ora, oh Signore, Dio nostro che facesti uscire il tuo popolo dal paese d'Egitto con mano potente e ti facesti un nome quale oggi noi abbiamo peccato abbiamo agito malvagiamente Oh Signore secondo tutta la tua giustizia fa, ti prego, che la tua ira e il tuo furore si allontanino da Gerusalemme la tua città, il tuo monte santo perché per i nostri peccati e per le nostre iniquità dei nostri padri Gerusalemme e il tuo popolo sono divenuti oggetto di vituperio per tutti quelli che ci circondano Perciò ora ascolta, oh Dio nostro la preghiera del tuo servo e le sue suppliche e fa risplendere, per amore del Signore il tuo volto sul tuo santuario che è desolato Oh mio Dio porgi il tuo orecchio e ascolta apriti occhi e guarda le nostre desolazioni e la città sulla quale hai invocato il tuo nome perché noi non presentiamo le nostre suppliche davanti a te per le nostre opere giuste ma per le tue grandi compassioni Oh Signore, ascolta Signore, perdona Signore, presta attenzione non indungiare per amor di te stesso Oh mio Dio perché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul tuo popolo Or mentre io stavo ancora parlando e pregando e confessando il mio peccato e il peccato del mio popolo di Israele e presentavo la mia supplica davanti all'Eterno il mio Dio per il monte santo del mio Dio sì mentre stava ancora parlando in preghiera quell'uomo Gabriele che avevo visto in visione dall'inizio mandato con rapido volo giunse da me verso l'ora dell'oblazione della sera egli mi ammaestrò mi parlò e mi disse Daniele io sono venuto ora per metterti in grado di intendere all'inizio delle tue suppliche è uscita una parola e io sono venuto per fartela conoscere perché tu sei grandemente amato fa dunque attenzione alla parola e intendi la visione 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo e per la tua santa città per far cessare la trasgressione per mettere fine ai peccati per espiare l'iniquità per far venire una giustizia eterna per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo sappi perciò e intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia il Principe vi saranno sette settimane e altre 72 settimane piazza e fossato saranno nuovamente ricostruiti ma in tembi ancosciosi tutte le 62 settimane il Messia sarà messo morte ma non per lui stesso e il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario la sua fine verrà con un'inondazione e fino al termine della guerra sono decretate devastazioni egli stabilirà pure un patto con molti per una settimana ma nel mezzo della settimana farà cessare sacrificio e oblazione e sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sulla devastatore Nel terzo anno di Ciro re di Persia una parola fu rilevelata a Daniele che si chiamava Belshazzar la parola è verace e il conflitto lungo egli comprese la parola ed ebbe intendimento della visione in quel tempo io, Daniele feci cordoglio per tre settimane intere non mangiai cibo prelibato non entrarono nella mia bocca né carne né vino e non mi unsi affatto finché non furono passate tre intere settimane il ventiquattresimo giorno del primo mese mentre ero sulla sponda del gran fiume che è l'Idekel alzai gli occhi e guardai ed ecco un uomo vestito di lino con ai lombi una cintura d'oro di Ufaz il suo corpo era simile al crisolito la sua faccia aveva l'aspetto del folgore i suoi occhi erano come torce fiammeggianti le sue braccia e i suoi piedi parevano bronzo lucidato e il suono delle sue parole era come il rumore di una moltitudine soltanto io Daniele vidi la visione mentre gli uomini che erano con me non videro la visione ma un gran terrore piomboso di loro e fuggirono a nascondersi così rimasi solo a osservare questa grande visione in me non rimase più forza il bel colorito cambiò in un pallore e le forze mi abbandonarono tuttavia udì il suono delle sue parole all'udire però il suono delle sue parole caddi in un profondo sonno sulla mia faccia e con la faccia rivolta al terra ma ecco una mano mi toccò e mi fece stare tutto tremante sulle ginocchia e sulle palme delle mani poi mi disse Daniele uomo grandemente amato intendi le parole che ti dico e alzati in piedi perché ora sono stato mandato da te quando mi ebbe detto questa parola io mi alzai in piedi tutto tremante egli allora mi disse non temere Daniele perché dal primo giorno in cui ti mettesti in cuore di intendere e di umiliarti davanti al tuo dio le tue parole sono state ascoltate e io sono venuto a motivo delle tue parole ma il principe del regno di Persia mi ha resistito ventun giorni però ecco Michael uno dei primi principi mi è venuto in aiuto e io sono rimasto là con il re di Persia e ora sono venuto per farti intendere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni perché la visione riguarda un tempo futuro mentre mi parlava in questa maniera abbassai la faccia a terra e amuto lì ed ecco uno con le sembianze di un figlio d'uomo mi toccò le labbra allora io apersi la bocca e parlai e dissi a colui che mi stava davanti signor mio per questa visione mi hanno colto gli spasismi e non mi è rimasta più alcuna forza e come potrebbe il servo di questo mio signore parlare con questo mio signore perché ora le forze mi hanno abbandonato e mi manca persino il respiro allora colui che aveva le sembianze d'uomo mi toccò di nuovo e mi fortificò e disse oh uomo grandemente amato non temere pace a te sii forte sii forte quando mi ebbe parlato io ripresi forza e dissi parli pure il mio signore perché mi ha dato forza quindi egli disse sai tu perché io sono venuto da te ora tornerò a combattere con il principe di Persia e quando sarò uscito ecco verrà il principe di Giavan ma io ti farò conoscere ciò che è scritto nella scrittura della verità e non c'è nessuno che si comporti valorosamente con me contro costoro tranne Micael il vostro principe libro del profeta Daniele capitolo 10